Il presidente della regione Attilio Fontana ha presentato la composizione della nuova giunta, 16 assessori e 4 sottosegretari. Ci sono anche i bergamaschi Paolo Franco, Lara Magoni e Claudia Terzi. Si fa sempre più preoccupante la crisi idrica dovuta alla siccità, situazioni di deficit in diversi comuni. Uniacque ha richiesto ordinanze di contenimento dei consumi per frazioni di Albino, Alzano, Gandellino, Nembro e Oneta. Iniziati da pochi giorni proseguono a ritmo serrato i lavori per il rilancio del comprensorio sciistico di Colere. Siamo stati a vedere. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Apriamo con la cronaca incidente stradale questa mattina intorno alle 7.30 a Darfo Boario Terme. Per cause imprecisate un uomo di 59 anni è caduto dalla sua bicicletta. Sul posto la Reu ha inviato l'automedica e un'ambulanza, è intervenuta anche la polizia stradale. L'uomo è stato trasportato in codice rosso, quindi in gravi condizioni, all'ospedale di Esine. Cambiamo argomento, lo avete sentito dai titoli. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha presentato oggi la composizione della nuova giunta. Sono 16 gli assessori, 11 uomini e 5 donne e 4 i sottosegretari, 3 uomini e 1 donna. Ci sono anche i bergamaschi, Paolo Franco, Lara Magoni e Claudia Terzi. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato ufficialmente questa mattina la composizione della nuova giunta regionale. Come avevamo anticipato questa mattina è arrivata la conferma che saranno due gli assessori bergamaschi. La leghista Claudia Maria Terzi sarà assessora a infrastrutture e opere pubbliche. Perde però la delega ai trasporti. L'altro assessore è Paolo Franco, esponente di Fratelli d'Italia che sarà assessore alla casa. Lara Magoni non sarà più assessora ma sottosegretaria a sport e giovani. Per quanto riguarda gli esponenti bresciani saranno tre gli assessori. Simona Tironi di Forza Italia, a istruzione, formazione e lavoro. Barbara Mazzali di Fratelli d'Italia che seguirà turismo, marketing territoriale e moda. E Giorgio Maione della lista Fontana Lombardia Ideale che si occuperà di ambiente e clima. La giunta lombarda sarà poi composta da Marco Alparone, vicepresidente e assessore al bilancio. Guido Bertolaso, assessore al welfare. Romano Larussa, assessore a sicurezza e protezione civile. Elena Lucchini, assessora alla famiglia. Francesca Caruso, assessora alla cultura. Alessandro Beduschi, assessore all'agricoltura e a sistemi alimentari e foreste. Massimo Sertori, assessore a enti locali, montagne e risorse energetiche. Franco Lucente, assessore a trasporti e mobilità sostenibile. Alessandro Fermi, assessore a Università Ricerca e Innovazione. Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico. E Gianluca Comazzi, assessore al territorio. E sul tavolo della giunta regionale arrivano le prime richieste. L'autorità di Baccino dei laghi Iseo, Endine e Moro ha presentato in regione i progetti concordati con le amministrazioni comunali del territorio relativi alle opere pubbliche da realizzare sui laghi di competenza. L'autorità di Baccino ha raccolto le richieste per poi sottoporle alla regione e ottenere i finanziamenti necessari. In questi giorni abbiamo provveduto come autorità di Baccino a girare una nota di richiesta a regione Lombardia per quanto riguarda la programmazione dei progetti e dei finanziamenti richiesti a regione appunto sulle opere demaniali dei nostri tre specchi di lago di competenza. 2 milioni e 521 mila euro di finanziamenti che si riverseranno e di richiesti di finanziamenti che si riverseranno sul nostro territorio, dei quali 2 milioni circa a carico di regione Lombardia e 500 mila euro, i restanti 500 mila euro a carico dei soci proponenti, dei comuni proponenti. In particolare autorità di Baccino oltre alle richieste delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei propri pontili, ha fatto due richieste a regione Lombardia. Una riguarda la sponda bresciana del lago di Iseo che è una riqualificazione del porto industriale in località Saremaresino che necessita di una ristrutturazione, in particolare la pavimentazione si è ammalorata per 450 mila euro. E sulla sponda bergamasca in località Costa Volpino abbiamo necessità di abbattere e demolire un edificio di proprietà di regione Lombardia ormai fatiscente che è nelle vicinanze della sede di navigazione e del porto che è annesso ovviamente al nostro cantiere nautico che necessita davvero di una demolizione e direi riqualificazione dell'area perché in questo momento l'area è fatiscente per circa 300 mila euro. E complessivamente, come dicevo, sono 2 milioni e 500 mila euro di richiesta. Una volta che abbiamo trasmesso a Regione Lombardia, all'assessorato infrastrutture, la nota di richiesta da parte di autorità di vaccino e quindi per conto dei nostri comuni soci, Regione Lombardia accoglierà tutte le varie richieste delle varie autorità di vaccino presenti sul territorio Lombardo e poi solitamente intorno alla fine dell'estate e intorno agosto la giunta regionale, accogliendo le richieste delle varie autorità di vaccino, emanerà poi il decreto di finanziamento vero e proprio. Naturalmente, dall'in poi, l'obbligo da parte delle autorità di vaccino e dei comuni soci è quello di iniziare a paltare i lavori entro il 2023 per poi ovviamente proseguire e concludere le opere nei primi mesi dell'anno 2024. Purtroppo si fa sempre più preoccupante la crisi idrica in Bergamasca a causa della siccità in diversi comuni ci sono situazioni di deficit alle quali Uniacque guarda con particolare attenzione. L'invito ancora una volta è a limitare il più possibile i consumi. Ma sentiamo Vladimir Lazzarini. In Lombardia la piovosità media dell'anno 2022 è stata di soli 587 mm contro una piovosità media nel periodo 2014-2021 di 1.250 mm. Purtroppo il primo trimestre del 2023 non evidenzia un'inversione di tendenza nelle precipitazioni. In provincia di Bergamo le fonti e in particolare le sorgenti che non sono ricaricate dalle piogge stanno progressivamente diminuendo la loro produttività e hanno raggiunto il flusso di base. Uniacque sta intensificando gli interventi per fronteggiare la situazione di deficit idrico e che vede una portata dimezzata in particolare per le sorgenti minori della valle brembana e della media valle seriana. Uniacque segnala situazioni di attenzione per alcuni comuni della zona 2 che comprende Gorlago, Ranzanico, Sovere e Trescore Balneario e una situazione in peggioramento nella zona 7 per le frazioni di Nese e Olera di Alzano con un livello di attenzione elevato e possibili criticità a breve. Sono già state inviate richieste di emissione di ordinanza e di contenimento dei consumi idrici che riguardano la località Bello Loco in comune di Albino, la frazione Montedinese e Olera in comune di Alzano Lombardo, la località Foppi di Gandellino, le frazioni Trevasco, San Vito e Lonno di Nembro, la frazione Chignolo di Oneta e la parte centrale del comune di Val Brembilla. Sono 36 gli altri comuni della provincia di Bergamo che presentano un livello di attenzione elevato per attingimenti anormalmente alti e possibili criticità a breve. Sono Ambivere, Barzana, Caprino Bergamasco, Casnigo, Castione della Presolana, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Cisano Bergamasco, Clusone, Colzate, Dossena, Fino del Monte, Fiorano Alserio, Gandino, Gazzaniga, Gorlago, Gorno, Leffe, Onore, Palazzago, Parre, Peia, Piario, Ponte Nossa, Pontida, Premolo, Ranzanico, Roncola, Rovetta, Serina, Sovere, Torre del Busi, Trescore Balneario, Vertova e Viladogna. Ci spostiamo a Colere dove sono iniziati da pochi giorni i lavori per la riqualificazione della stazione sciistica. Siamo andati a vedere come sta procedendo l'intervento. Iniziati lunedì 6 marzo proseguono a ritmo serrato i lavori per il rilancio della stazione sciistica di Colere, un investimento da oltre 20 milioni di euro per dare un nuovo volto al comprensorio. Con Silvio Rossi, amministratore delegato della RSI, la Società degli Impianti, siamo saliti fino ai 1600 metri della malga Polzone. Che cosa state facendo in questo momento? Stiamo demolendo gli impianti che poi verranno sostituiti. Abbiamo cominciato con l'impianto Carbonera Polzone che è già in fase avanzata e poi proseguiremo con la Cima Bianca e con la Sciovia Capanno. Ricordiamo che cosa prevedono questi lavori di riqualificazione che trasformeranno completamente la stazione sciistica. Sì, nel primo impianto sarà montata un nuovo via ad agganciamento automatico a 10 posti. Mentre sulla parte Polzone Cima Bianca viene montata una seggiovia a 6 posti, sempre ad agganciamento automatico. Al posto della seggiovia Capanno, invece, viene montata una biposto Leitner riposizionata. La nuova ovovia consentirà di arrivare alla Malga Polzone dalla località Carbonera in paese in 4 minuti e mezzo. Con la seggiovia a 6 posti sarà poi possibile raggiungere Cima Bianca all'incirca con lo stesso tempo. Cosa prevedono le diverse fasi dei lavori? Beh, lo smontaggio di tutti gli impianti, poi a breve tempo l'inizio della costruzione dei cementi per poi posare la parte meccanica degli impianti e poi la parte elettrica. Speriamo per luglio di aver finito la govia e per ottobre di aver finito anche la 6 posti e la biposto, in maniera che dopo i collaudi si possa, neve permettendo, aprire. Quindi l'obiettivo è riaprire la stazione per la prossima stagione invernale? Sì, di fatti già l'anno scorso è stato rifatto completamente l'innevamento artificiale dal paese fino a una quota di 1.900 su tutte le piste. Apriremo anche la pista Italia, è stata omologata per l'uso turistico e nella sua incompletenza fino in paese. Con i seggiolini smantellati dalle vecchie seggiovie Carbonera e Cimabianca è stata organizzata una vendita benefica. Il ricavato sarà interamente devoluto al gruppo anziani, all'oratorio e all'asilo parrocchiale di Colere. Ci occupiamo adesso di un intervento dei vigili del fuoco a Predore. La squadra SAF del comando di Bergamo oggi è entrata in azione per recuperare un cane finito ieri sera in un dirupo di circa 80 metri. I vigili del fuoco sono riusciti a individuarlo e raggiungerlo. Lo hanno imbragato e con l'aiuto dell'elicottero lo hanno portato in salvo. Cambiava argomento, più di un secolo di storia per la Val Gandino, rivista parrocchiale dell'unità pastorale di Gandino, Barzizza e Cirano e della comunità di Cazzano Sant'Andrea. Vengono stampate più di mille copie al mese. Anno speciale questo per il bollettino parrocchiale di Gandino, un anniversario importante o siamo con il nuovo direttore Gian Battista Gerardi? Sì, un anniversario importante perché la Val Gandino, questa rivista attualmente mensile ma in passato anche settimanale, tocca i 110 anni di storia. Il primo numero apparve infatti il primo giugno del 1913, un giornale partito dalla parrocchia di Gandino ma che attualmente copre l'intera unità pastorale, quindi le parrocchie di Gandino, Barzizza e Cirano e anche la parrocchia di Cazzano Sant'Andrea. Credo di poter dire una vera e propria istituzione per il paese. I lettori sono ancora più di mille tutti i mesi, i numeri stampati e soprattutto alcune centinaia di copie vengono diffuse non soltanto in paese, in Val Gandino, ma anche attraverso il servizio postale o in qualche caso con la moderna possibilità digitale raggiungono ogni angolo del mondo. I gandinesi sono i primi artefici della Val Gandino, ne sono i protagonisti nelle cronache non soltanto parrocchiali ma anche cittadine e ne sono anche un po' coloro che fanno da propulsore a queste notizie. Tantissimi sono coloro che si attivano per segnalare notizie, per offrire spunti, spunti per esempio anche di memoria, abbiamo una rubrica, quella dell'ultima di copertina, che riguarda le foto storiche, che è davvero seguitissima e per la quale ci vengono forniti mensilmente decine di fotografie che poi dobbiamo ovviamente scegliere e pubblicare. Però è bello raccontare anche come tanti studiosi hanno utilizzato le pagine della Val Gandino per raccontare importanti ricerche e importanti studi, a volte anche inediti. Mi piace ricordare il professor Mario Carrara, che tanto ha collaborato con il giornale, ma anche il professor Piero Gelmi, Monsignor Francesco Ghilardi, Antonio Savoldelli, che al tempo ha anche realizzato la propria tesi di laurea proprio dedicata alla Val Gandino. Tutte persone che si dedicavano a volte anche a un numero speciale, quello di agosto, che per la Val Gandino costituiva di fatto una monografia dedicata a un particolare argomento. Tra questi citavamo alcuni scoop inediti, il reperimento e l'attribuzione a Giacomo Cerruti, il pittore bresciano, ora sulla cresta dell'onda per Bergamo Brescia, capitale della cultura, che riuscì ad attribuire con certezza a Giacomo Cerruti ben 31 opere della nostra Basilica. E quindi davvero una scoperta che fece epoca, allora eravamo negli anni Ottanta, che gratificò non poco Monsignor Francesco Ghilardi, che è stato più di 70 anni a Gandino e che della Val Gandino è stata davvero una colonna. Il sottoscritto vanta una piccola grande militanza anche esso nella Val Gandino perché il mio primo articolo risale al gennaio del 1983 e se così vogliamo dire per festeggiare quest'anno i 40 anni della prima pubblicazione, la parrocchia mi ha anche assegnato il titolo di direttore responsabile, essendo giornalista pubblicista, ma soprattutto essendo venuto a mancare il Don Lino Lazzari nel settembre del 2021, Don Lino Lazzari che era il direttore responsabile della testata sin dagli anni Ottanta e che soprattutto lo era anche per tante altre testate della diocesi. Alle sue spalle c'è la macchina che attualmente stampa la Val Gandino, quindi è una memoria che gli è stata tramandata dagli avi e porta avanti ancora oggi. Sì, la porto avanti io con enorme piacere, dopo che mio padre e mio nonno comunque nel corso di questi anni hanno portato avanti l'attività della tipografia, l'hanno creata loro. Curioso il fatto che mio nonno ha lavorato per moltissimi anni presso la tipografia dell'oratorio maschile, non era il titolare, era un semplice operaio, invece negli anni Sessanta l'attività è stata messa in proprio dove ci troviamo tuttora, è stata messa in proprio da mio padre Virginio e verso la fine degli anni Ottanta, all'inizio degli anni Novanta, l'ho presa in mano io e attualmente andiamo avanti con l'attività. A Gromo una mostra personale dell'artista Lucia Sanavio in occasione della Festa della Donna. Si potrà visitare in sala consigliare fino al 24 giugno. Una delle opere esposte verrà messa all'asta per sostenere l'associazione Fior di Loto contro la violenza sulle donne. Vediamo. Il cuore delle donne contro la violenza sempre è il titolo della mostra allestita nella sala consigliare del Comune di Gromo in occasione dell'8 marzo della Festa della Donna. Ecco perché questo evento con quale significato? Abbiamo voluto come ogni anno ricordare l'importanza di questa giornata, l'8 marzo, la Festa della Donna e abbiamo voluto farlo ricordando anche uno dei temi principali di cui si parla tanto anche in occasione del 25 novembre che è proprio quello legato alla violenza di genere. Quindi in questa giornata avremmo potuto soffermarci su tante tematiche, abbiamo voluto farlo in questi termini. Abbiamo voluto farlo innanzitutto in questo luogo che è la sede istituzionale dell'amministrazione comunale perché riteniamo che assolutamente le istituzioni debbano porre l'attenzione a questa giornata e alle tematiche ad essa legate. E poi in quello che, come saprete, diverrà proprio il Palazzo della Cultura perché riteniamo che la cultura sia il mezzo per combattere la violenza. E lo facciamo con una mostra di carattere artistico a cura appunto dell'artista Lucia Sanavio e tutto questo avviene proprio soffermandoci sull'importanza dell'arte. L'arte che ha di per sé sicuramente un valore inestimabile ma che lo assume ancora di più nel momento in cui diventa il mezzo per veicolare messaggi anche di natura sociale come per esempio proprio il tema della violenza di genere. E quindi andiamo in questa direzione, questo sarà sempre un luogo culturale, artistico e anche proprio per mandare tanti messaggi e per far riflettere anche il nostro pubblico. Siamo con l'artista Lucia Sanavio. Tra le diverse opere esposte in questa mostra ce n'è una in particolare che è questo dipinto. vorrei che ci parlasse di questo quadro anche perché all'interno di questa mostra ha un significato particolare. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, questo dipinto rappresenta due cuori dal titolo Indivisibili, l'Unione. Questa opera la dono all'associazione Fior di Lotto contro la violenza sulle donne e per me è molto importante. Rappresentano due cuori. Il simbolo, questi piccoli quadrati che vedete nel quadro, nel dipinto, praticamente sono le finestre sul mondo. Il blu, l'universo, il bianco è la purezza, la speranza e questi due cuori si intrecciano. Quindi è una cosa molto bella, molto forte per tutte le donne e per tutta l'umanità. Questa mostra vuole sostenere anche l'attività dell'associazione Fior di Lotto di Gazaniga. In che modo? Allora, è un'associazione fatta di volontarie, quindi di avvocate, psicologhe che lavorano gratuitamente ma ci mettono anche risorse loro. Io credo che ci sia bisogno anche di un riconoscimento, hanno bisogno di aiuto, non solo di grazie e pacche sulle spalle e grazie all'artista Sanavio ha messo a disposizione un'opera sua che ha un valore alla certificazione ma ha questo anche significato. Quindi per sostenere l'associazione Fior di Lotto praticamente cosa bisogna fare? Si viene a vedere la mostra tutti i weekend fino al 24 giugno. Chi non potesse nel weekend, l'ufficio turistico è assolutamente a disposizione negli orari che sono pubblicati ovunque, telefonare, mandare una mail, vedere l'opera, quindi anche fuori perché riteniamo sia importante questo passaggio, compilare il modulo che dice sono il signor Taldei, offro la cifra, chi porterà a casa l'opera, chi all'estrazione, l'offerta più grande, chi avrà offerto di più porterà a casa l'opera. Quindi venire qui e fisicamente imbustare l'offerta nella cassetta oppure se c'è qualcuno che ha intenzione di vedere l'opera può telefonare in ufficio, noi saliamo a posto, la facciamo vedere e farà la donazione che sarà estratta appunto il 24 giugno. In occasione della giornata internazionale della donna, domani sabato 11 marzo è in programma un'iniziativa anche a Clusone. Iussin Franchina presenterà Monica Vitti, Fiore del mio giardino, il racconto della vita e delle opere di una delle più grandi attrici del cinema italiano. L'appuntamento è alle 16 nella sala Legrenzi di Palazzo Marinoni Barca. L'ingresso è libero. Era l'ultima notizia, adesso i programmi di Antenna 2. Questa sera alle 20.05 la rubrica di motori videomotori, alle 20.25 promoserio eventi, alle 20.30 un nuovo appuntamento con il settimanale di informazione Target, alle 21.50 in viaggio, alle 22.15 Italia Economia, alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale, alle 23.10 un documentario di Giorgio Fornoni, Groenlandia, il pianeta bianco, alle 23.50 Pianeta Salute TG, a mezzanotte e mezza la terza edizione del telegiornale. E chiudiamo con l'almanacco. domani è sabato 11 marzo, il sole sorge alle 6.36 e tramonta alle 18.24. La luna è in fase calante, sorge alle 22.48 e tramonta alle 8.40 di domenica. La Chiesa ricorda San Costantino. È tutto anche per questa sera. Vi ricordo, dopo il telegiornale, l'appuntamento con il TG Sport, con la rubrica Erbe e Salute e infine con le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Grazie per averci seguito e buona serata.